che assalitore mi prendo con diesimila, giacalle me lo bannano, ying non so usarla, sofia non mi piace brutta e dokebi è cinese, lion ha la maschera, finca è donna, maverick c'è la cambossidrica, buck è vecchio e capitava un occhio solo, che devo prendere, minchia piccola, porca puttana, io andrei in villa, quindi banniamo parco perché loro bannano confine, no al contrario, infatti al contrario, quindi andiamo in confine, no, in villa, si, minchia non avrei mai immaginato di dire si a villa, esatto, minchia, andri arriva subito, ma andrea sta giocando, ancora è fermo, andrea è fermo, mamma, andrea non gioca, ora gli spariamo, a voglia, ora buschiamo, buschiamo, legnate, eh, l0 no, lo bannano in unsuccessful, Lai credito, lLai credito, ma la paesitata pure il cuore proiettivo, and qua mamma no però non posso avere buona sera mi ti posso entrare allora puoi entrare fino a nessuno per tranquillo vieni 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 che molto pure uno adesso vieni e vedo dentro ma vaffanculo quanto io occhio simo oh non l'avevi visto adesso mio compà da dietro lo sapevo che stavano venendo da lì compà c'è la lesson non l'hai visto eh chiedo scusa te lo schiuma comunque raga adesso è nella stanza dei reti e sta avventendo e l'altro non lo vedo esci dalla finestra si adesso rimane un nemico si è qualcuno che si affizza si mi sono affizzato io raga abbiamo plantato si ma che sei il telefono che fa pipì pipì non l'ho sentito mentre sentivo più più del mio fucile capito ah 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 di più 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 vado giù vado giù vado giù vado giù vado giù vado di averli fatto uccidere col drone non ho utilizzato il mio drone no no non vi neanche ci fa che ci spotta e ci distruggono il sangue perchè dove sei tu proprio di te la pica non ne so fanno la scala surprise motherfucker ma che cazzo ci fai ciao johnny no ho riso giusto perchè mi sono immaginato andrà che gli diceva di nuovo cazzo ti ho detto di non venire qua ho saltato non cazzo lui ti lo fa ved pods qua 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 ah ah oh mifadi ed è andre l'imprezzi il minuto ricarico ok va il carico richetta nelle scale マ il Futuro la morto perché minchia di qui arriva di asimo a mozzi in fondo vado di drone chi ce l'ha il plant minchia nessuno dei due vengo con te allora mozzi è giù mozzi è giù sicuro bravo i yogi cazzo se c'è il plant si infatti mancano dieci secondi un'attaccante neutralizzato raggiungere la bomba di roma di roma di roma di minare andrea il drone stavo cercando di salvarmi il drone perchè mai rotto il drone o qua ce n'è un impuntamento altro primo piano fai di drone un piaccio di eger ma c'è frost dentro c'è uno c'è doc è sempre fermo è sempre fermo allucinante allucinante dai ma sul serio non riesci a morire cambio caricatore dai io una a sinistra mi sanno un operatore alleno inizio minchia non ha preso no ma da questo fa ma allora voglio che dio mi sia testimonia nel ok c'è un altro fuori finchia l'esion è sempre nella stanzetta qua 15 secondi devo plantare occhio c'è tre plant oddio planta non potevo fare niente planta che palle ma non ciò gli yokai fortificazione abbiamo una pappa ci sono sdoppiati città ragazzi rititoli ragazzi siamo rititoli non riuscirà a distruggere un drone col bomba cazzo ha piccato la vala la colonna portante uno è sicuro lì hai avuto una bomba l'ho levato l'oscuro ma l'apertone è qua l'apertone è qua l'apertone è la finestra di qua ping 2 va dal sui lì ciao taste ho disinnescatore ce n'è uno qua ping 4 sta salendo capitale c'è uno dentro c'è il bar dentro raga i bani ti rilesti i bani ti rilesti o è morto è bani eh è morto ah c'è uno qua capitale è entrato capitale non sapevo che eravamo solo io tu osa fuori dalla finestra bro entra dalla camera da retta osa tipo bufonia fuori non aveva vita come cazzo si chiama io volevo tutta la vita come fate ma sei vivo ma infatti è senza vita mico sapete tutti che dovete fare un muro da barricare un miracolino si arrivo ma secondo me lo scudo qua davanti è messo così è che io perché non ne ho mai pensato mai ma dove mi sono messo effettivamente volendo posso anche fartelo esplodere da dietro tipo come si chiama lo scudo di goio scudo di goio che che è nata vaffanculo minchia o ma come lascia il disinnescatore di che ti devi disontossicare da questa cosa nonostante no è bello il disinnescatore di sinnescatore da questa cosa nonostante nonostante quando vuoi quando vuoi sono contento basta si muove sono le cose che non è ma c'è la ferma qua c'è la ferma qua raga vado a casa ho portato sono state davanti carico il tardo io un piano ah la esce planto mi trova sotto davanti mi dinesco bomba avviato protetto il disinnescatore è rimasto di là è rimasto minchia guardate come l'ho ucciso non so nemmeno io è bastanti oh ma io non so neanche dove erano ragazzi io non ho visto nessuno chi erano chi si erano scelti no sul serio io so proprio chi è stata sua erano quindi è una bella d'okai ma d'okai mi diceva uno squillare tra i fai figlio ma infatti ma mi avete dato il tempo eh ma tu te mi fai così no se ho impuneati dentro lo devi fare blu 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 ma mi metto zio quanto il tempo di digitare il numero no 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 non sprecare non sprecare i proiettili danni non so penso io andrea occhio ce n'è qua un impuntamento aia dentro ce n'è uno andres attento qui c'è uno c'è thunderbird 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 qui c'è la thunderbird e le mò no mi sa che è proprio vai andrea vai andrea vai andrea entra entro 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 ecco voi che entriete a scuole ollie 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 orix 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 ele angolox let's go vaffanculo però una cosa c'è in questo gioco che è di chi si vende di sinistro ci sono tutte le varianze del mondo che falle la prossima volta non te lo do manco morto è bravo e planta però ci sono volte che muore e lascia il disinnescatore affanculo di pallinezio e poi c'è ragazzi vai plantate chi è il disinnescatore nessuno è il disinnescatore però diciamo che si è scordato il disinnescatore nella mappa precedente oh non riesco ad entrare col drone ma l'hanno distrutto siamo prosto a destra oh lì dai mica ti devo dare all'esterno dimmelo un minuto dopo io sono dentro ah dai no non ce l'ho ah ce l'ho io sei tu ce l'ho ma allora sei stupido qui thunderbird ultimo uomo per la squadra leale giude alla sinistra arrivo arrivo grande uuuu siamo questa caccio di battita no l'hai detto non ci posso credere che l'hai detto te ricardo ha preso il disinnescatore pure in difesa qui c'è un drone ma lo vorrei fare dato che sono un drone pure io no dai che schifo sono morta c'è il nocchio ma che è tu vedi chi dà di fronte guarda si c'è anche nocchio e sale a qualcuno dalle scale sto laggando fortissimo oh ma che cazzata oh dai porcatano gli al lag della mia minca pure ci si deve mettere simone oh dai porcino ragazzi chiudiamo questa partita ahahah ahahah sicuramente entreranno dalla finestra uno due uno e mezzo due e tre quarti tre panino non ce la facciamo esatto oh un'ora dopo però minchia dai come ha fatto a non morire minchia ma perchè dobbiamo sempre perdere a 3-0 perchè qualcuno parla troppo esatto eh vici da questo lato e nomad da quel lato da quello che stupido c'è un drone che si è suicidato con la rulli raga ho bisogno di una mano secondo me non si sono accolto che andiamo a casa a terra minchia io non so se riesco a recuperare facciamo avvenire ma spaspa ci provo io dove sei aspetta in bagno ma come mi ha ucciso vai nanni vai nanni vai nanni vai nanni vai nanni e quanto sa quella nooo ma che Dio mi ha porto avanti ma che c***o fà voi seiinto sei un Lardo sei fatto per morire pazzo mi ero fatto per morire mi ritroi ho visto proprio la luce di entrare spegne vai da sapete nel tunnel è una luce mi chiamo non solo vado ad aiutarlo si lamenta pure sto bastardo sento freddo non mi sento freddo mi sento male bellissimo bellissimo ciao nonno nanni ha fatto che c'aveva ancora il tempo quindi non ho capito perché è morto no no non ce l'aveva credi è morto di ictus proprio e ho riso anche perché c'è lì tu mi ha fatto ridere troppo magari anche te tipo che quando ti è morto hai fatto come dire ma ma come mi ha fatto che ho fatto che ho fatto non esce nelle scale o no 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 n'ho riscato accettare sotto da dove? 3 ore a puntare la finestra proprio 3 ore oh questo l'ha fatto full team lì no mi ha laggato per me quel secondo cioè questo si è fatto full team non lo capisco non lo capisco qui c'era ma ti disegno dai no porca troia ricarico minchia ma non entra nei colpi c'è gente a cuore dai ragazzi vabbè vabbè c'è anche il trust alla finestra arriva eh ho capito li avevo però ti mira ricca ti dico io se sei rimasto ok perfetto è affacciato è affacciato no maria mi sento troppo responsabile te occhio alla finestra è la porta eh eh non piccare non piccare resisti resisti è entrato è entrato silista silista minchia oh ok maria salci ho capito un cazzo il andres ti esci mettiamo davanti la porta si 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 no proprio dall'altra è già avanti è avanti vabbè ci penso io io dobbiamo capire l'inferno di fuoco l'inferno di fuoco allora facciamo così simo metto lo scudo io metto lo scudo tu spai il fumo e riccardo planta dietro di me si non si può più plantare qua ragazzi perchè minchia non mi fa plantare spero che fuori dalla portata delle cose minchia lo sapevo io che incredibile l'operatore d'attacco no vabbè